L'incidente è avvenuto intorno all'ora di pranzo al molino Alimonti di Casillo di Ortona. La vittima è un operaio di 49 anni che aveva appena caricato un camion di farina e stava fissando il rimorchio alla motrice. L'operazione tuttavia non è riuscita e l'uomo è rimasto schiacciato fra i due mezzi. Una lieve pendenza o i freni di sicurezza non inseriti nel modo giusto hanno causato l'impatto fatale. Inutile l'intervento del 118 che si era levato in volo in elicottero da Pescara sulla vicenda indagano i carabinieri di Ortona coordinati dal tenente Pasquale Striano che al momento escludono responsabilità di terzi per quanto accaduto. Non vi sarebbero testimoni diretti della tragedia ma i primi rilievi farebbero pensare che tutto sia stato cagionato da un'imprudenza della vittima o da un'imprevedibile fatalità.